Voi vi preoccupate del f***o morto e sepolto 80 anni fa e risuscitato solo da voi come ogni anno alla vigilia del 25 aprile. L'Europa è sull'orlo del baratro. La gente non ce la fa pagare la rata del mutuo triplicata a causa dell'aumento dei tassi di interesse. Le aziende non riescono ad accedere al credito perché anche il costo del denaro è aumentato esponenzialmente. Avete compromesso la competitività aziendale delle nostre industrie con le vostre politiche pseudo-green e ogni giorno sorgono conflitti alle porte di casa nostra. E di fronte a tutto questo voi vi preoccupate. Morto e sepolto 80 anni fa e risuscitato solo da voi come ogni anno alla vigilia del 25 aprile. Ma con che coraggio parlate di dittature proprio voi che negli ultimi cinque anni avete imposto ai cittadini europei di ristrutturare casa quando volete voi, di acquistare l'auto che scegliete voi, di mettere nel piatto quello che piace a voi e di festeggiare solo le ricorrenze stabilite da voi. Altro che Europa democratica. È qui nelle istituzioni europee che si annida il vero pericolo di una dittatura. La dittatura del pensiero unico. Un tradimento del progetto dei padri fondatori che ci volevano uniti nella diversità e non tutti uguali e omologati. State trasformando il sogno di un'Europa dei popoli nell'incubo dell'Unione Sovietica Europea. Ma noi ve lo impediremo.